Caduta dall'alto e morta per le gravi lesioni interne causate dall'impatto con l'asfalto. Potrebbe essere morta così la 46enne russa Alina Aurelik, il cui cadavere è stato trovato all'alba di ieri in via Papa Bonifacio IX nel rione Picone di Bari. L'autopsia effettuata nell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari dal dottor Biaggio Solarino ha dapprima escluso che si sia trattato di morte naturale, avanzando l'ipotesi che la donna fosse stata travolta e uccisa da un'auto pirata o addirittura da qualcuno con cui aveva appuntamento, visto che in piena notte era in pantofole e con in mano solo le chiavi di casa, non lontano dal luogo in cui viveva. Sul cadavere nessun segno evidente di violenza, ma fratture scomposte ed emorragie interne non visibili ad una prima ispezione cadaverica, che anzi rivelava ferite e lacerazioni compatibili con una semplice caduta. La nuova pista seguita dagli investigatori che non escludono neppure l'ipotesi del suicidio è quella della caduta dal terrazzo di un edificio, non quello in cui abitava, ma comunicante. È probabile dunque che da casa sua abbia raggiunto il terrazzo del palazzo vicino o che si trovasse in casa d'altri quando è caduta, lanciatasi nel vuoto volontariamente o spinta giù da qualcuno. Risposte più certe potranno aversi solo nelle prossime 48 ore, dopo che saranno stati ultimati gli esami sulle impronte digitali trovate sul suo corpo e i riscontri incrociati tra le lesioni rilevate nell'autopsia e i rilievi dei carabinieri.